rieccoci qui per un nuovo video sul canale di vince oggi andremo a trattare una tecnica molto interessante all'interno della programmazione linguistica perché questa è la seconda stagione sulla pnl e andremo a toccare un argomento generalmente non trattato nella maggior parte delle scuole di programmazione linguistica scarica ora il report gratuito pnl motivazione in pdf e scarica gratuitamente anche il brano subliminale aumenta la tua pace interiore grazie al link che c'è in descrizione questo tipo di argomento vai a trovarlo più nelle scuole che fanno pnl umanistica integrata nello specifico parleremo dei nuclei profondi del secchio una tecnica che è stata elaborata dagli andreas gli andreas magari io una volta ricordo che era un bar a rimini ero lì tranquillo a prendermi un caffè quando ancora bevevo il caffè durante una pausa appunto del corso stavo tenendo un corso di pnl contemporaneamente di fronte in un altro albergo stavano tenendo un altro corso di pnl in che era appunto un'altra scuola che di cui ovviamente non faremo il nome e la cosa interessante c'erano due ragazzi che erano allievi loro mi hanno riconosciuto abbiamo scambiato due parole loro stavano facendo il master di pnl quel punto ha detto bene magari state lavorando sulle parti state facendo i nuclei profondi nuclei profondi hanno guardato come se avessi bestemmiato in aramaico praticamente e io gli ho detto i nuclei profondi degli andreas gli andreas mi hanno guardato come a dire ma chi sono noi questo andreas gli andreas sono dei ricercatori interessanti puoi trovare diverse pubblicazioni con l'astrolabio che è la casa editrice storica sulle pubblicazioni inerenti alla programmazione aerolinguistica e hanno elaborato veramente delle tecniche molto molto efficaci quella dei nuclei profondi quella che preferisco in assoluto perché va a creare a generare cambiamenti di tipo generativo il cambiamento di tipo generativo è interessante perché non si limita a lavorare sul singolo dettaglio ma innesca cascata tutta una serie di cambiamenti che vanno a trasformare l'individuo in senso positivo ovviamente a livello di identità a livello di valori convinzioni va quindi sui livelli molto alti questo tipo di tecnica ora dopo queste premesse ovviamente dovrò cercare di spiegarmi come funziona questa tecnica su cosa va a lavorare ecco è una tecnica molto complessa magari ti rimando al libro nuclei profondi del sé degli andreas dove viene spiegata bene tenendo conto che comunque io negli anni l'applico da tantissimo tempo magari con i miei clienti all'interno dei corsi l'ho migliorata l'ho modificata l'ho resa più efficace con la pratica si migliorano sempre le cose si tratta di un lavoro specifico sulle parti profonde in pianelle si parla di parti profonde tant'è che anche nei lavori di pianelle classica tendenzialmente quando cerchi di fare un tipo di cambiamento anche in maniera un po forzata diciamo che quelli un po più avveduti pur avendo strumenti di pianelle classica in genere chiedono se c'è qualche parte del sé in contrasto perché se c'è qualche parte del sé in contrasto il cambiamento ovviamente regredirà cioè avrai un attimo di oddio come mi sento bene e poi farà dei passi indietro che cosa sono queste parti profonde cosa sono queste parti bambine allora bisogna partire da un presupposto che noi quando veniamo al mondo riceviamo una serie di imprinting questi imprinting positivi ma anche negativi vanno a generare all'interno di noi stessi particolari nuclei profondi che adesso andremo a vedere che vanno a condizionare pesantemente se sono negativi vanno a condizionare appunto pesantemente la nostra vita nel senso che e quando diciamo a una parte di me non ha resistito a quel cioccolato quindi magari uno che ha dieta dice come se una parte a un certo punto è scattata mi ha fatto mangiare quella cioccolata al di là della mia consapevolezza oppure una parte di me ti amo una parte di me ti odia quando parliamo di noi in termini di parti e queste parti quando si formano iniziano a formarsi da un grembo materno e poi man mano che andiamo avanti soprattutto nei primi anni di vita in genere queste parti hanno un'età che va dai 0 ai 3 4 5 anche 6 anni il zoccolo dur dai 0 ai 3 4 anni e sono dei forti imprinting che il bambino ha ricevuto facciamo un esempio classico guardate lo spiego con un esempio perché il modo migliore per capire come funzionano queste parti allora io ho sei mesi sono lì sul seggiolone che sto piangendo come un dannato e sera sono affamato magari la mamma lì che non mi si sta affilando di striscio perché sta attaccata al cellulare sono lì che che sbatto lì sul seggiolone oppure sul tavolino dei giochi sto facendo casino in quel momento rientra mio padre stanco da lavoro incazzato e con un mal di testa stratosferica ci sono io che piango perché sto rivendicando in realtà un mio diritto ho fame ho fame però mio padre che è incazzato per i fatti suoi a un certo punto per farmi stare zitto magari mi urla zitto fa una roba di questo genere io che sono un bambino di sei mesi di vita vengo aggredito da questa col questo questo qui gigante così quale unica risorsa quale unica soluzione possiedo magari ne ho più di una ma in quel momento un bambino che ha poche risorse perché ha pochi mesi di vita mi zittisco mi ammutolisco sto fermo mi congelo perché quello lì mi spaventa mi ha inquietato sto fermo lì perché è l'unico modo per far smettere quel coso grande e grosso che urla può accadere che una parte del sé rimane congelata nel tempo a quei sei mesi di vita e ogni volta che si ricrea una situazione simile quella parte si riattiva dicendo fermi tutti so io come si risolve il problema allora uno dice vabbè sai sei mesi di vita ci sta a un anno due tre ma tu vai avanti magari a 10 15 anni quando litighi con qualcuno basta che questo alza la voce basta zitto e tu vuoi parlare ma non riesci perché quella parte come se riprende il controllo e dice qui ci penso io adesso sistemo le cose no come si risolve lo so lo so stiamoci zitti e nonostante tutti in punti per cercare di dire qualcosa dici io non riesco è come se una parte di me prendesse il controllo sfugge al mio controllo razionale questo è il potere delle parti anche quando ai 20 anni 30 anni 40 anni 50 anni anche a 60 anni queste parti si riattivano e come se fossero congelate quel bambino di sei mesi si riattiva e prende il controllo ho fatto l'esempio bambini di sei mesi del seggiolone che piange che che sbatte ma gli esempi possono essere innumerevoli e di un arco d'età anche più ampio di quello dei sei mesi può chiedere un anno addirittura grembo materno certe sensazioni emozioni che provato che si vanno a radicare ora facciamo una precisazione molta gente parte con un approccio sbagliato quando deve lavorare con queste parti cioè le vede come un nemico dice no quella parte è nemica quella parte mi lavora contro quella parte cerca di prendere il controllo della mia vita quindi va in lotta contro la parte la devo sopprimere la devo eliminare io odio quella parte di me stesso ma questo è un approccio sbagliato completamente sbagliato perché come diceva un mio maestro è come se tu con una cerbottana dichiari guerra a uno che ha le testate termonucleari questo caso il tuo inconscio che è formato da tutte queste parti perché qui la novità cioè noi pensiamo all'inconscio come un monoblocco no quella parte di sotto dell'iceberg no non è così l'inconscio è formato da tante parti del sé positive potenzianti ma ci sono anche parti tra virgolette limitanti però non sono cattive se io mi metto contro queste parti quelle si incazzano ancora di più e come quando hai a che fare con dei bambini se un bambino tu lo tratti male lo isoli per esempio in classe non può capitare che un bambino bambino che ha dei comportamenti negativi viene isolato viene trattato male viene messo da parte infatti cosa si cerca di fare esempio di includerlo il bambino di farlo sentire partecipe allo stesso modo non è qui come se avessimo una scuola materna ok di tutte queste parti che in pratica alcune di queste vanno nella direzione indesiderata rispetto alla nostra volontà razionale allora in questi casi cosa occorre fare bisogna accoglierle in questi casi bisogna capire cercare di individuare l'obiettivo positivo che queste parti si prefiggono che non è una cosa semplice però tutte queste parti hanno tutti obiettivi positivi anche le più terribili le più cattive addirittura nella comunicazione efficace noi in pianelle diciamo questa cosa ogni comportamento contiene in sé un'intenzione positiva uno dice ma come anche il più discraziato più delinquente di tutti sì perché attraverso quel comportamento che è sbagliato perché nella sua esperienza limitata di vita ha imparato a raggiungere un obiettivo positivo con quel comportamento sbagliato e la stessa cosa fanno queste parti bambine quindi mettono in atto comportamenti completamente magari distruttivi ma lo fanno perché ambiscono degli stati profondi e sì hai sentito bene stati profondi sì 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 parliamo proprio di stati profondi parliamo di quasi di stati mistici cioè se tu vai a esplorare l'obiettivo positivo della parte arriva degli stati come per esempio l'amore universale cioè paradossalmente parti da una che magari tratta male gli altri li bullizza no perché uno può avere anche una parte cattiva di questo tipo e poi scopre che questa parte cosa vuole scava 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 per quale scopo vuoi quello per quale scopo lo vuoi per quello obiettivo positivo lo vuoi scavi 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 esplorazione del meta risultato del meta stato e a un certo punto scopri che magari questa vuole l'amore universale se per questo è uno stato profondo oppure la pace interiore o addirittura la connessione con l'universo con il tutto ad esempio questi sono tre stati molto molto importanti io lavoro con le parti da tantissimi anni con la tecnica dei nuclei profondi e quasi sempre vanno lì diciamo che gli stati profondi sono cinque tre te ne ho già detti gli altri sono per esempio il benessere ma non un benessere così un benessere superiore superiore alla media un benessere più spirituale particolare e poi l'essere l'essere pienamente se stessi e qui abbiamo i cinque stati profondi che poi ogni persona chiamerà modo suo magari uno pace interiore la chiama serenità un altro non ti dirà amore universale ti dirà un'altra cosa la cosa importante è imparare ad accogliere queste parti dentro di noi che si localizzano anche a livello corporeo le possiamo proprio individuare quando viviamo proprio quel disagio che quella parte ci fa vivere cerchiamo di dire dove si trova quella parte di me stesso che fa questa cosa e a un certo punto sentirai nel corpo che si va a localizzare con una sensazione o addirittura ti arriva un'immagine particolare o addirittura senti una voce a per esempio le parti sono famosi per le voci se tu che dici a un certo punto vabbè ma questa cosa la faccio e dentro di te ti dici no ma questa è una stupidaggine non farla chi ha parlato ma se io ho detto che voglio farla chi è che ha parlato non è che sentiamo le voci e quel dialogo interiore a volte fatto da uno o più parti che ci mandano qualche volta in confusione altre volte ci disorientano altre volte ci indirizzano bene ed è interessante tutto questo cioè quanto complessi siamo siamo più complessi quello che si crede per capire un po funzionamento di queste parti faccio l'esempio non è proprio il massimo lo so quello del parlamento del governo perché non è il massimo perché lo sappiamo non facciamo commenti allora il governo è quello che dà come dire indirizzo no quello che bisogna fare quindi il governo rappresenta la mente razionale no la nostra voglio mettermi a dieta per esempio il governo dice ok da oggi dieta ok però come faccio a farlo devo poi andare in parlamento questo tranne in italia diciamo devo andare in parlamento e poi chiedere al parlamento di votare a favore o contrario no quindi basta il fatto se ho una maggioranza quindi io governo una maggioranza vado avanti se non ho una maggioranza poi cado ok che cosa succede e noi siamo fatti uguali abbiamo tutta una serie di parti positive negative che poi negative non esiste voglio ribadirlo le percepiamo noi come negative per il per il fatto che metto in alto comportamenti non proprio bellissimi e quando mi dico oggi mi metto a dieta se la maggior parte delle mie parti sono d'accordo va bene può accadere che anche se c'è una una o più parti ma diciamo apparentemente in minoranza ma se hanno un potere qualitativo più ampio sono quelle che magari inizio una dieta faccio per una settimana due settimane tre settimane e poi mi boicotto e dico ah non ho resistito a quella parmigiana me ne son fatto una teglia intera cosa che ho fatto da ragazzo quando era un po più in sovrappeso ed effettivamente mi son fatto una parmigiana da solo una teglia intera mia madre diceva ma come c'è una teglia qui vuota teglia che mi portò la signora del quarto piano come omaggio come dono per i miei genitori che erano assenti e una parte di me prese il controllo e disse mangiamoci questa bella parmigiana cosa che feci e non dormi la notte ovviamente perché la parmigiana è abbastanza pesante raccontato questo episodio carino quindi che cosa bisogna effettivamente fare la tecnica luci profondi è molto complessa non te la spiego qui però ti posso dare delle chicche e delle soluzioni che io comunque nel mio piccolo utilizzo su me stesso ad esempio io ho una parte però me la tengo ho una parte che quando arriva più o meno maggio giugno siccome abituata sin da piccola che quello è il momento in cui si stacca non si lavora più se continua a lavorare mi fa venire un po di febbre mi fa non stare proprio bene tant'è che ricordo che io ho iniziato a lavorare più o meno in maniera seria all'età di 18 anni tra i 18 e 19 anni ma già lavoricchiavo un po già a 16 anni con davo una mano a mio padre lavoravo e studiavo e poi a 18 andavo all'università ma lavoravo lo stesso ed era un casino perché che cosa è successo a un certo punto non andavo più a fare quei due tre mesi di stacco come quando andavo a scuola perché c'erano i tre mesi di stacco ma erano due settimane tre settimane come tutti i comuni mortali quel punto ho cominciato ad avere dei problemi problemi seri dermatiti di tutti i tipi febbre alta ma che venivano sempre in quel periodo e questa cosa l'ho lasciata correre ho passato dai ferragosto con 40 di febbre praticamente quasi tutti gli anni che cosa è successo poi me ne sono accorto e sono entrato in contatto con questa parte cioè ci ho parlato e ho fatto una contrattazione sì lo so sembra una roba un pazzi no che fai parli con te stesso sì la la individuo l'accolgo perché i bambini vanno accolti ricordiamocelo sempre se tu lo tratti ama questa è una parte quella si chiude non ti parla più e poi sono volatili per diabetici se non sai cosa sono i volatili per diabetici fai una ricerca sull'inobanfi e capirai che cosa sono cosa interessante con questa parte ho fatto un contratto cioè ho negoziato e ho detto guarda io non posso più permettermi di staccare a maggio no però ti prometto che ti farò avere un mese di vacanza piena da quando ho cominciato a fare questa cosa e soprattutto a mantenere la promessa fatta perché coi bambini si fanno le promesse si fanno le contrattazioni e si mantengono lo stesso con le nostre parti interne questi problemi sono magicamente spariti e allora io ti consiglio da questo momento in poi di fare più attenzione più ascolto quando ti ritrovi in questi meccanismi di auto boicottaggio quando vengono queste parti soprattutto quando parli di te stesso di te stesso in termini di parti ecco comincia ad accoglierle e comincia a negoziare con loro cerca di capire cosa vogliono e cerca di dire ok tu vuoi per esempio più stacco più rilassamento più divertimento perché a volte le parti vogliono anche queste cose o altro ok quindi una specie di dialogo interno quel punto dice ok negoziamo farò in modo che tu possa avere questo e in cambio tu mi fai stare bene perché ovviamente lei magari vorrà qualcosa che tu non gli puoi dare completamente quindi bisogna negoziare ora la tecnica dei nuclei profondi un po più elaborata va a fare una risoluzione totale completa perché fa in modo che tu vai a mettere in connessione direttamente la parte con lo stato profondo lo stato profondo che vuole quindi per esempio con l'amore universale quel punto la parte una volta connessa con l'amore universale non ha più bisogno di mettere in atto quel comportamento fatto l'esempio ad esempio del bullo quello cattivo con gli altri ma se la parte viene messa in connessione con l'amore universale quasi per magia ma non è magia svanisce quel comportamento è una tecnica che io consiglio a tutti quanti questo fatto di entrare in contatto e soprattutto mi raccomando andatevi a leggere i nuclei profondi del sé poi questa è una tecnica che ho tratto in maniera approfondita proprio nel master di programmazione erolinguistica e questa tecnica per spiegarlo ci metto una giornata tra spiegazioni dimostrazioni vari pezzi vari passaggi ecco poi in quel libro che ti ho comunque consigliato troverai tutto la cosa bella è che con questa tecnica non andiamo a scavare sul perché questa parte si è creata questo non è il mio lavoro e non lo faccio semplicemente cerchiamo di capire qual è lo stato profondo al quale ambisce e la mettiamo in contatto e in questo modo tutto si trasforma oppure come ti ho suggerito anche prima cercare di fare una mediazione una negoziazione interiore bene io spero che questo video ti sia piaciuto se ti è piaciuto mi raccomando like pollicioni su condividilo con i tuoi amici e se non ti sei ancora iscritto il canale iscriviti adesso e mi raccomando clicca sulla campanellina così sarai sempre avvisato su ogni nuovo video ti mando un abbraccio un bacio e alla prossima ciao 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 ciao